buongiorno a tutti oggi parliamo di grandezze direttamente proporzionali allora consideriamo questo problemino di vita quotidiana una cioccolata calda distributore della scuola costa 0,50 euro cioè 50 centesimi in pratica quante cioccolate calde al giorno posso prendere o voglio prendere lo decido io ne posso prendere zero ne posso prendere una ne posso prendere due tre quattro dieci quante voglio quante ne voglio però poi il costo non lo decido io se ne prendo dieci non posso pagare 0 euro il costo dipende da quante cioccolate prendo quindi abbiamo le variabili la variabile indipendente è il numero di cioccolate calde le indico con x perché le variabili indipendenti di solito sono quasi sempre indicate con x quanto pagherò cioè il costo è la variabile dipendente perché questa non è di indipendente ma dipende da x c'è da quante cioccolate compro e si indica con con la y nella mia tabella mi accorgo che se prendo zero cioccolate il costo sarà 0 se ne prendo una sarà 50 centesimi se ne prendo due un euro se ne prendo tre sarà un euro e 50 se ne prendo 4 sarà 2 euro se ne prendo 10 pagherò 5 euro vedo che all'aumentare del numero di cioccolate aumenta anche il costo è in particolare non aumenta casualmente come quando io considero l'altezza di un bambino che differenza c'è qua per esempio da 1 a 2 ho raddoppiato il numero di cioccolate da 0 50 un euro e raddoppiato anche il costo da 1 a 3 ho triplicato il numero di cioccolate da 0 50 a 1 50 ho triplicato il costo cioè al raddoppiare triplicare quadruplicare del numero di cioccolate raddoppia triplica e quadruplica il costo l'altezza di un bambino non sarebbe così perché se il bambino ha un anno e 70 centimetri a due anni non sarà un metro e quaranta a tre anni non sarà due metri e dieci cioè l'altezza non triplica e non raddoppia al triplicare o raddoppiare dell'età altrimenti saremmo tutti troppo alti allora queste grandezze dove al raddoppiare triplicare quadruplicare della x raddoppia triplica e quadruplica la y la variabile dipendente queste grandezze si chiamano direttamente proporzionali c'è una cosa che rimane costante tutto varia vedete che abbiamo due variabili ma c'è una cosa che rimane costante ed è il loro rapporto vi ricordo che il rapporto in matematica significa divisione infatti se facciamo il rapporto vedete y fratto x 0 50 su 1 quanto fa 0 50 1 diviso 2 se fate il calcolo fa 0 50 1 e 50 diviso 3 se fate il calcolo fa 0 50 2 diviso 4 se fate il calcolo fa 0 50 5 diviso 10 se fate il calcolo fa 0 50 questo 0 50 nella nostra formula generica lo chiamiamo k perché rimane costante k di solito in matematica sta per costante quindi abbiamo due variabili y e x dipendente indipendente ma il loro rapporto è costante si può scrivere anche in questo modo y uguale k per x è la stessa identica cosa infatti questa è la legge che diciamo la funzione o la legge che riguarda due grandezze direttamente proporzionali se avete fatto bene gli esercizi avete notato che y uguale 3x y uguale 2x y uguale 5x sono tutte allora grandezze direttamente proporzionali perché sono di questo tipo dove k può essere 1 2 3 4 5 eccetera e quindi ci daranno come grafico una retta passante per l'origine infatti punto 0 0 qui non manca mai quando x è 0 qualsiasi cosa c'è qua y eppure 0 vediamo un attimo questo grafico eccolo qua io l'ho già disegnato questo è y uguale a 0,5x cioè nostri il nostro esercizio sulle cioccolate calde da 0,50 euro cioè 0,5 y uguale 0,5x guardate che bello il primo punto vi ricordate era 00 se prendevo una cioccolata pagavo 0,5 se prendevo cioccolate pagavo 1 euro se prendevo 3 cioccolate pagavo 1,5 se prendevo 4 cioccolate pagavo 2 euro se prendevo 10 cioccolate pagavo 5 euro con questo grafico io posso vedere tutto per esempio se ho 9 euro quante cioccolate posso prendere vado sulla retta il 9 è qua a questa altezza scendo ah sì posso prendere 18 cioccolate e se prendo 14 cioccolate quanto mi costa vado qua ah sì ne posso prendere 7 ok grazie per l'attenzione